Io vorrei ricordare a questi signori che non sono solo i danni materiali che spero ci rimborsino, ma i danni psicologici sono quelli che nessuno ce li rimborsa. Io sono sei notti che non dormo e ho la perenne paura. La mia nipotina, che vive qualche volta la maggior parte con noi, ci ha saltato il coso dell'allarme. Lei a casa mia non ci vuole stare più. Lei pensi in che situazione psicologica siamo? Io ho pianto due giorni. Il pensiero che aveva tutta quell'acqua di sotto arrivava quasi, non dico coperte, ma quindi il problema psicologico è importantissimo perché come lo quantifichi? Adesso come me lo quantificano questo stato di cose? Io non lo so, non lo so proprio.